Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti. La Meloni seduce i turchi, potremmo dire, considerata la copertura data dalla stampa locale e dalla stampa turca, compresa quella mondana alla visita sabato scorso della nostra Premier. Il viaggio, il primo da presidente di turno del G7, è stato tra il formale e l'informale, da quello che capiamo. Non era stato annunciato con tanto anticipo e, durato due ore, non c'è stata alcuna conferenza stampa né congiunta né singola alla fine. Ciò che sostanzialmente, quindi, i giornali turchi stanno è ciò che hanno appreso leggendo la stampa italiana. Sostanzialmente, la nostra Premier, in vista anche della grande conferenza sull'Africa del prossimo weekend a Roma, è andata da Erdogan per chiedere un aiuto a frenare le partenze dei migranti dalla Libia all'Italia. Una richiesta parsa, peraltro, a molti il rituale e che darebbe per scontato che il presidente turco possa decidere che cosa la Libia, che è uno stato sovrano, deve fare. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla copertura che all'incontro ha dato la BBC, rete britannica molto presente e attiva in Turchia. BBC News che titola Meloni ha chiesto aiuto a Erdogan per fermare l'immigrazione dalla Libia. Conferma il giornalista turco che quello che loro sanno lo hanno appreso dalla stampa italiana e cioè che, considerata la grande influenza che il sultano esercita sul paese nordafricano, lui è la persona giusta cui chiederlo. E Meloni, qui la considerazione mia, è donna pratica. Dice ancora la BBC che Erdogan si è detto collaborativo e per questo accordo tripartito con Tripoli. E sembra ancora che, per quanto apparso improvviso, di questo incontro, Meloni ed Erdogan avessero già parlato a settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quando si incontrarono a New York. La BBC ricorda ancora, a chiudere il servizio, che nel prossimo weekend a Roma si terrà il vertice Italia-Africa al quale sono attesi capi di Stato, di governo e ministri dei principali paesi africani. Scopo del meeting è presentare l'ambizioso Piano Mattei che il Parlamento ha licenziato nelle scorse settimane. Un contesto nel quale sono i previsti i rafforzamenti delle relazioni politiche e la cooperazione sociale. Insomma, un'occasione per dei contatti di persona che vanno sempre bene. Chiedo scusa. Vi dicevo che a Istanbul è scesa in campo anche la stampa mondana che si è fatta raccontare da chi c'era la visita della Meloni al Bazar. Camu Gundemi, per esempio, annuncia testualmente, titolo, virgolette, tutti i dettagli sulla colorata visita del primo ministro italiano al Gran Bazar. Giornale che comunque si è dovuto però fare raccontare tutto dal professor Hilbert Ortaili, uno degli storici più autorevoli e apprezzati del paese che è stato scelto per accompagnarla. Racconta dunque il professore che la modestia è stata la prima qualità della Meloni, apparsa a chi la accompagnava e anche ai negozianti del Bazar. Si è insomma mossa come una normale visitatrice, entrando nei negozi, chiedendo, ascoltando. Il professore ne è stato conquistato, definendola una delle figure più alla mano tra i politici mondiali. Meloni, dice ancora, è stata attirata particolarmente dai lampadari con motivi ottomani, dalle lavorazioni in argento, dai tappeti, circostanza che ha fatto capire ai presenti quanto, scrive letteralmente il giornale, la Meloni si appersona dai gusti raffinati. Apprezzati anche i selfie che si è fatta con i commercianti. Peccato che, con una scusa, non abbia toccato il dolcetto alla zucca che le era stato offerto, peccato. Però ha chiesto il permesso di accendersi una sigaretta e anche questo ha bene impressionato. Ultima annotazione, poi lasciamo in pace anche la nostra Giorgia, è sulla biografia pubblicata da Yeni Gunn, quotidiano popolare di Smirne. Una biografia che la definisce una giornalista e politica italiana, in effetti all'ordine iscritta, anche se questa non è la prima cosa a cui si pensa qui, visti i suoi rapporti con i colleghi della stampa. Giornalista e politica italiana, dicevamo, nazionalista e conservatrice, non una parola, sulle origini post-fasciste della sua militanza politica. Scrive invece la biografia che Giorgia Meloni non ha vaccinato la figlia ed equiparò, ai tempi della pandemia, la possibilità di morire di Covid come quella di essere colpiti da un fulmine. Dice ancora che Meloni sostiene la teoria del complotto sulla sostituzione etnica e che gli spostamenti di massa dall'Africa all'Europa lei li mette in relazione a questo. Chissà, se lo ha ripetuto Erdogan quando hanno parlato della Libia. Basta Meloni comunque, parliamo di Fleximan. Chi è Fleximan? ce lo dice l'indipendant da Parigi che titola è diventato un eroe in Italia. Fleximan è il vigilante che fa strage di autovelox. È diventato insomma la bestia nera dei radar stradali e il mito degli internauti. E se la sua identità è ancora sconosciuta, il suo modus operandi è stato più volte filmato. Dotato di un frullino, l'uomo si muove di sera, arriva, sega il palo, l'autovelox cade e l'ha già fatto decine di volte. E se all'inizio sembrava colpire a caso, successivamente ha cominciato a muoversi in modo più ragionato attaccando i radar più redditizi come quello di Colle Santa Lucia che era il più attivo del bellunese e che è arrivato a fruttare al suo comune quasi 500.000 euro l'anno. Moda maschile ora, sulle sfilate milanesi da poco concluse The Hollywood Reporter niente meno, titola Sulle passerelle maschili italiane torna il tradizionalismo, la fluidità è out. Per molto tempo si era parlato, scrive il giornale, di abbattere le barriere di genere nell'abbigliamento per uomo. Ma ora sembra esserci un movimento controriformista e reazionario come si è visto nelle collezioni autunno-inverno. Una fashion week che ha testimoniato una vera successione come certifica la rivista hollywoodiana. Un ritorno al classicismo, al gusto sartoriale, alle cose ben fatte e durevoli trasformando un abito in un bene rifugio in cui investire i pochi soldi rimasti certo che ne scrivono. Una ricetta già in un qualche modo anticipata dalla serie pluripremiata Succession, appunto. Tralascio la serie di valutazioni su tutti gli stilisti presenti, non dico che non sia interessante, nel caso comunque l'articolo intero lo trovate linkato nella newsletter di oggi. Italia uguale a dolce vita, Italia uguale moda e grandi firme, come abbiamo detto, Italia uguale cibo e spaghetti al cucchiaio, come da foto che introduce un articolo di Yahoo News americano intitolato In Italia non aspettarti che al ristorante ti vengano consegnati all'uscita gli avanzi del tuo pasto, ovvero in Italia non aspettarti il doggy bag. In America è normale che le portate siano molto abbondanti e che senza chiedere alla fine quando paghi il conto ti trovi anche il cartoccetto ma non aspettatevelo all'estero scrive l'articolo americano tantomeno aspettatevelo in Italia. Una ragione può essere cercata nella mancanza di additivi nei cibi italiani gli chef italiani non li usano e per cui se una fetta di pizza negli Stati Uniti può rimanere in frigo anche per giorni in Italia no e anche le portate come dicevamo in Italia sono più piccole e poi i ristoratori italiani se non finisci tutto un po' fanno la faccia triste e gli devi dire che oggi non sei perfettamente in forma. In Italia continua l'articolo è però comune dividere i piatti ordinati con gli altri commensali e ordinare un solo piatto è considerato strano comunque se il doggy bag lo chiedete certamente ve lo danno ma difficilmente resterà qualcosa da metterci dentro per finire Italia paese della moda del buon cibo del saper vivere e paese del bidet cito il confidenziale dalla Spagna che titola un'americana stupita dall'esistenza dei bidet in Italia è una grande invenzione l'articolo lo fanno anche i grandi giornali spagnoli mica solo qui è basato semplicemente su un tiktok un reel di una tal Carolina statunitense che mostra la sua nuova casa affittata alle cinque terre dove si fermerà per cinque anni un anno ogni terra e nel tour guidato dell'appartamento si sofferma a mostrare questo strano sanitario e a illustrarne l'utilizzo ce ne sono in tutte le case italiane dice in tutte le case italiane troverete un bc e un bidet apri l'acqua ti siedi e fai una grande invenzione conclude che non capisco come mai noi americani non abbiamo copiato nemmeno io lo capisco meno male che siamo italiani a domani vi aspetto